No, io credo che il Milan solleverà la Champions, quindi io andrò a vivere in Thailandia. E ringrazierò Marotta e tutti quelli che avranno permesso questo scempio, scegliendo due anni fa di privarsi di un natore che avrebbe impedito tutto questo. Due anni senza Conte, uno scudetto al Milan e probabilmente una Champions. Ma sta tornando, ma sta tornando.